Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft MC Eternal Lite Oggi vorrei finire, o almeno completare per la maggior parte, tutte queste quest E si inizierà tornando nella Twilight In una di queste case dobbiamo uccidere uno di loro Ok, forse non è uno di quelli che spawnano, ma è uno di quelli qui sotto Duid Mage Sì, è lui Un altro da uccidere, se non sbaglio dovrebbe essere lui, che avevamo già ucciso, ma non ce l'aveva contato Esatto Ora dobbiamo uccidere un Dread Knight e in realtà ce l'ho la chiave per entrare come si dovrebbe Quindi possiamo utilizzarla Ed ecco qua il Dread Knight Avevo preso un Cyclope in una Vial perché sapevo che prima o poi sarebbe tornato utile E infatti ora si è sbloccata la quest per ucciderlo Ed eccola qua Siamo in una giungla ed è di utilizzare un Droppo Vivol qui L'obiettivo sono degli zombie da uccidere per poi ottenere dei parassiti speciali Ok, eccoli In teoria se adesso aspettiamo dovrebbero fare qualcosa Tipo trasformarsi in Vespe Ma quanto detto dalle quest Sì, sono diventate delle uova Eccola qua Uh, è uno di quei mob baffati mi sa Quanta vita hai? Ok, questo ottenuta Siamo di nuovo nella Twilight Forest Stiamo cercando un ragno grosso Nella Dark Forest E niente mi sa che è quasi impossibile da trovare Vediamo quindi il Droppo Vevil La Corsa Dread non sembra funzionare molto bene Dato che è stralare non riesco a trovarla Vorrei provare questa Biom Stuff Se io faccio per esempio Right Click Shift Right Click Dark Forest Quindi sono nella giungla dove avevo la scorsa farm E se faccio Right Click diventa Dark Forest Perfetto Ok, l'ho trovato Praticamente la Corsa Dread non funziona per niente Però se messo nell'Overworld con la Nocturnal Powder Sono riuscito a trovarla al secondo tentativo Mentre nella Twilight l'ho utilizzata parecchia E non l'ho mai trovato Ed eccoti qua Ho esplorato per davvero tantissimo tempo Con la rendering a 22 Per vedere se ci siano degli alveari Questa a questo ci chiede di uccidere una Nether Wasp E non ho trovato nessun modo per poterla spawnare Perché non è che spawnano all'interno degli alveari Perché dentro gli alveari c'è uno spawner Quindi non è uno spawn naturale E non ho la più pallida idea di come trovarle E mi è venuto il dubbio che non ci fossero Quindi ho creato un nuovo mondo E la tipologia l'ho scelta come Beombs of Plenty Appena sono entrato nel Nether Ho incontrato tre alveari vicini tra di loro Il che vuol dire che è un problema del mondo E noi non potremmo mai trovare un Beehive E una Nether Wasp Come la risolviamo la cosa? Come prima cosa di sicuro non depositerò tutti i miei item qui dentro Non aprirò la LAN per attivare il cheat Non convertirò il mondo in game mode 1 Non utilizzerò il template manager per caricare un alveare E non lo inserirò all'interno del copy paste gadget In modo tale da poterlo mettere dove voglio Sicuramente non lo piazzerò io manualmente E non aggiungerò io manualmente lo spawner Perché non si è copiato Poi ovviamente bisogna eliminare tutte le prove Tornare in sopravvivenza come se nulla fosse Il passo successivo è fingere che non sia successo nulla Ok allora ho provato a cercare per parecchio tempo nel Nether Ma non sono riuscito a trovare un Beehive Questa cesta non c'era prima Book and shit Nether Wasp Ok non ho la più parida idea di che cosa siamo Lo lasciamo lì Voglio provare a dare un'occhiata Se riesco a trovare E quello cos'è? Non mi sembrava ci fosse un po' di tempo fa Sembra un Beehive Sì è un Beehive E c'è lo spawner E ha spawnato delle api Perfetto Quindi abbiamo completato la quest Quindi era proprio qui vicino E io che ho cercato per ore in giro per il mondo Con la render distanza 22 E Eccolo qua Proprio lui cercavo Quest è completata Il prossimo è il Summoner Che si trova nel Benit Beh siamo nel Benit E da quello che ho capito Basta piazzare un No Forse deve essere fatto in fondo Da qualche parte Tipo A Y4 Forse A Y1 Non avrei mai pensato Che avremmo ripreso in mano Questo libro così presto Però È il momento di cheat Quindi ci mettiamo FDB Editing Mode True In questo modo possiamo cambiare le quest Perché Il Summoner E Lantern Hillager Non li possiamo proprio trovare Perché le mod sono state rimosse Da MC Eternal A MC Eternal Light Però le quest sono ancora presenti Che è un po' un problema Quindi facciamo Completa E anche Per il Summoner Facciamo False Non ho trovato un Summoner Anzi non sono proprio riuscito a trovarlo Chissà perché Però la quest si è completata da sola Che fortuna E lo stesso vale per Lantern Hillager In realtà in tutte le pianure Che ho trovato Ho cercato di trovare la sua casa Però stranamente Non è mai comparso Chissà perché E anche questa quest Si è completata da sola Ottimo Ora ci basta uccidere Un Vindicator E un Evoker Ci chiedono di sconfiggere Un singolo Itakua Loro non sanno che volendo Posso addirittura Farmarli questi Andando avanti abbiamo La skeleton key Due golden lass Ok Lui dovrebbe essere il ghost Giusto? No Non so che diamine sia questo ghost Chicken wing Ring of the flying squid Iron ring Obsidian skull Obsidian skull ring Sleeping bag Diamond shield Glider Se provo a cercare i ghost Ottengo quella Della bewitchman Che è quello che ho ucciso prima Però c'è anche quella Dello vampirism Ghost Spuna nel Spuna qui Ok ho provato con La nocturna padre Non ha funzionato Mentre con la corsa d'erte Eccolo qua Sei te? Sì Perfetto Ora sarebbe bello trovare Questa jawlet key Stavo sistemando un pochino L'albero E ho completato una quest Di morte Sì questa Tempo dall'ultima morte La creati modifire Non ci interessa Ok Looting 10 sweep Questa ci interessa Non tanto la spada insieme Ma l'inchant Che possiede Quindi andiamo a chiedere Un po' di Incantamenti al progetto Dell'astral E a isca E otteniamo Uh questi sono bellissimi Sto reincantando la shite Con la botagna Per duplicare gli incantamenti E sta finendo il mana Erano piene queste Ok wow Era molto mana Quindi posso aggiungerci Sweeping edge E da 6 Passa a 10 Looting Che da 6 Passa a 10 E mending Per nessun motivo E adesso quando ce l'abbiamo in mano Con il resplendent prism È un più 3 Quindi abbiamo Looting 13 Ne approfitto per Rinominarla Volevo chiamarla Raya Eater Voglio fare un mana mirror Perché dato che la band of mana La teniamo nell'inventario E non ha proprio senso Tenere la band of mana Piuttosto che un mana mirror Perché questo sarà linkato A questa mana pool E la chiamiamo per sicurezza E avremo sempre mana infinito Si può vedere che ne ho consumato parecchio Perché ho iniziato a modificare Un pochino la base Ho convertito tutta la grass In vivid grass E ho piantato dei vari alberi E ho sostituito i log Con il magical wood E le leaves con le oak leaves Qui ci ho messo un phytogenic insulator Che mi dà i log del magic wood In pratica E si prende il fluxed phytogrow Volevo fare un terra truncator Perché questo dovrebbe essere meglio Rispetto alla lambrax Perché dovrebbe togliere tutto Quasi subito Non l'ho mai utilizzato Quindi voglio provarlo Ok si è decisamente meglio In particolare se non c'è la leaf decay Ottimo Questi non sono alberi custom Sono i dark willow sapling Basta piantarne uno Utilizzare il bone meal E dopo un po' crescerà Ora ha una forma che a me non piace troppo E cioè ha un quadrato 2x2 E quello che ho fatto con gli altri È stato togliere Una parte di qua E una parte di qua Per renderlo un pochino più carino Dal mio punto di vista E poi con la road of the shifting cross Mi sono messo a cambiare i vari blocchi Quindi i log con il magic wood E le leaves Ok sto incontrando parecchio questo problema Che la road non riconosce le leaves E non so perché Tipo adesso che ho staccato la registrazione Ho fatto rai click Me l'ha presa E questo è il motivo per cui Ho consumato mana E devo dire che il risultato Non mi dispiace per nulla Mi piace davvero parecchio Questo accostamento Ah avevo fatto questo Su premium pixel Per fare degli incantamenti E ci ho messo silk touch Perché vorrò spostare un po' Di questa vivid grass E non avevo voglia di fare un altro Intero piccone Con tutti i modificatori Per metterci silk touch Quindi ho preso questo E l'ho incantato E adesso abbiamo silk touch 4 Addirittura Questo resplendent prism È bellissimo Inizialmente avevo intenzione Di girare un po' Per trovare questa Jawled Key Solo che poi ho visto Su Discord che si può trovare Sulla luna E ho visto nei config Della mod Che si può trovare Sulla ed esclusivamente Nel Diamond Skull Che è Ultras Da Megararu E quindi mentre Pensavo a cosa fare Mi sono deciso A decorare un pochino Quelle radici E decorando quelle radici Mi sono accorto Che questo posto Non mi piaceva per nulla Quindi ho deciso Di aggiungere un po' di alberi E un po' di vivid grass E poi ho detto Beh dai se faccio questo Allora faccio tutto E sto facendo tutto Ho convertito a tutti indorti In modo tale Che la grass Non possa diffondersi Ma ci sia solo Vivid grass Soprattutto si espande Alla luce del sole Come l'erba L'unico problema È che il water in can Non funziona Non so per quale motivo Quindi ci vorrà comunque Un po' di tempo Prima che si riempia tutto Ho provato a Installare la Ripley mod Per far vedere Tutto il processo In un modo carino Mi sono informato Su come si utilizza Eccetera Ho provato a installarla E il MC Eternal Non funziona Ci ho provato in tutti i modi E il tempo che mi ha impiegato Per provarci È l'equivalente Di un episodio intero E ancora non ci sono riuscito Quindi ho deciso Di lasciar perdere E tra un salto e l'altro Aggiungerò un po' di cose Al momento direi Di finire questo capitolo Per adesso Lasciando questa Javelet Key Per quando andremo sulla luna E di completare Battle Tower E Light Puzzle Quindi basta tornare qui Ho disattivato Il Grindr Oh no Come si attivano i portali Per il Nether Allora ho fatto La linea centrale Di Obsidian Bricks E questo dovrebbe impedire La creazione Di portali E dovremmo esserci Sì Questa è finita Quindi credo che Questo Minesweeper Che si può comprare Nello shop E che ci suggerisce Di non piazzare Nella nostra base Crei Il suddetto dungeon Quindi siamo in un posto Abbastanza notato Cosa succede Se lo piazziamo Ok facciamo Right Click Ha creato una struttura Con Right Click Al centro fa uno Ma non è al centro Aspetta È prato fiorito Questo Interessante Ok Forse l'ho finito In teoria Manca solo questo No Sì Manca questo E anche questo In realtà mi sembra finito Non so che cosa dovrei fare In aggiunta Ho provato a completare Non altro E anche questo In realtà mi sembra finito Ma non capisco Perché non Non sembra finito Se provo a sbagliare Volontariamente Era da come Ma si era completo Perfetto Ho trovato come si completa Senza nulla Sono a mano sinistra Si fa Shift Right Click E si setta dove Pensi che siano le bombe Esatto Ok bene Al secondo Ho beccato la bomba E sì L'abbiamo completato E ci abbiamo Nulla di interessante E non ci ha completato La quest Per decorare Volevo fare un po' Di runestone brick E dato che ci siamo Direi anche di iniziare La roots Ho portato qui Alcuni villager Che sono dei duidi E anche per gli edge Witch Club Witchman Perché probabilmente Ci servirà in futuro Quindi direi di iniziare A comprare un paio di cose Tipo le stali creep Un paio di funghi Infernal bulb Wild wheat Oh wow Questo trade è davvero Molto interessante Un diamante 9 smeraldi Wow Direi di prenderci anche Il sapling particolare Della spirit herb Questo trade è davvero Molto conveniente Per me adesso Possiamo comprare Anche una component pouch E la pereschia E lui ci scambia Addirittura Un diamante Per 11 smeraldi Perché ci sono Sto livellando anche Gli edge witch Ci danno una tame Molto interessante Questo non so che cosa sia Ma direi di prenderlo E li ho livellati tutti Al massimo Questo dice di prenderlo Principalmente perché Può essere messo ovunque Quindi anche qui Ci abbiamo un po' Di roba Della bewitchman Che non vedremo oggi E anche della roots Inoltre ci tre A precisare Che questo ringo A potin Non ci dà solo 10 cuori Ma ci rende anche Immunia alla lava E anche al danno Da soffocamento E soprattutto Dal danno della fame E questo è il motivo Per cui riesco Ad avere la barra Del sangue vuota E a non subire danno Me ne sono accorto Quando ho cambiato Ring of Odin Per la reach In più E ho iniziato a prendere danno E si Ring of Odin è fantastico Anche perché La wayminer Possiamo utilizzarla Lo stesso La root La inizieremo Qui Sono curioso di vedere Quest'albero com'è E' un albero Normalissimo Ok Ha qualcosa di speciale Soprattutto Droppa i sapling Non sembra Che droppi i sapling No Niente sapling Per noi Quello che droppa Sono le wild root Perché è strano Perché le foglie Droppano le radici In ogni caso Per iniziale Si inizia con Prendi tutto il knife Lo facciamo di amethista Perché l'amethista Ce l'abbiamo E poi con il Fae Crafter E ci manca la Terra Moss Che è Vines Più cobblestone E la riclicca Con l'amethis knife E ci dà La Terra Moss Quindi possiamo Craftare Il Fae Crafter Ed eccolo qua Ne faccio un po' Perché sono sicuro Che ci servirà E in realtà Da non occhietare Queste Mi sembra che non ci siano Queste riguardo alla roots Non so perché Però per procedere Credo che ci serva Questo Grove Stone E lo mettiamo Qui vicino Quanto pare Abbiamo bisogno Di un mortar E un pestle E poi dovremmo fare Un crafting particolare Cioè la spell dust Per la grove supplication Perché dobbiamo Attivare questa Grove stone Perché al momento È inattiva Quindi come prima cosa Avremo bisogno Di petal Poi mettendo Petal Wild root Suppling Moss stone E una porta Otteniamo Grove Supplication Poi ci serve Una staff In cui inserire L'incantesimo E per inserire L'incantesimo All'interno Della staff Avremo bisogno Di un in Wear E un tipo Qui Quindi facciamo Right click E poi Right click E abbiamo ottenuto La staffa Con il grove Supplication Poi dovremo Sapere Il costo Che è Terramus Wild root Quindi all'interno Della component Pouch Mettiamo 8 Wild root E uno stack Di terramus E adesso Dovremmo avere I componenti necessari Per poter fare Come non Ne ho abbastanza O forse devo Metterla qui Esatto Ok Adesso questa Grove stone È attiva Quindi Sì Posso fare Il crafting Qui La domanda è Come funzioni Cioè Ti metto I lapis E poi Ci metto La stone Per fare Il crafting Deve essere Attivato Con un knife Quindi Right click Oh E li ho fatti Tutti Uh Molto buono Così Perfetto Ho ottenuto Quello che volevo Una volta Ottenuti I bocchi Decorativi Che volevo Ho dato Un'occhiata Ai vari spell E sono Piuttosto Basici Però ce n'è una in particolare Che è davvero molto interessante Che è Light Drifter E per questo Ci serve Della Moonglow Leaf Che non abbiamo ottenuto Dai villager Quindi direi di provare A craftarla Quindi prendiamo Delle bark Qui c'è scritto che La quantità di bark Ottenuto Può essere aumentata Con fortuna Quindi direi di Incantare Questa Unmative knife E di metterci Efficiency 5 Mending Fortuna 6 Unbreaking 10 Tra l'altro qui Ho aumentato la quantità Di mana pool Dato che il livello Degli incantesimi Che facciamo È molto alto Ho deciso di Mettere più mana Ed eccolo qua Con questo Ora possiamo rompere Istantaneamente Sì E ne otteniamo Parecchie Ora abbiamo bisogno Di un nuovo componente Che è il Fire Che immagino Vado acceso con Infinite and Steel E per esempio Lo mettiamo qui Quindi vuole Due bark Un glass Un quartz E una birch leaves E se lo accendiamo Ci dà La Moonglow Leaf E se facciamo Sneak right click Ci dà La stessa Recipe di prima Uh perfetto Senza nulla Nella mano sinistra Perché quando Abbiamo messo Un terro terro bozo Con un po' Di sunflower Quindi ce ne prendiamo Uno Quindi vuole Monglon Leaf Ender pearl Sunflower Yellow E wild wheat E possiamo ottenere Lo spell dust Per il light drifter E tecnicamente Possiamo aggiungerlo Già così Credo Sembrerebbe di sì Ed eccolo qua Ce l'abbiamo equipaggiato Sì E se facciamo Shift right click Torniamo a grove Ok così Ricicliamo Per funzionare Vuole la pereschia E direi di convertire Lime bulb E le wild wheat Quindi qui pianteremo Il pereschia E qui pianteremo Il wild wheat E per il momento Li farmeremo a mano Non credo ce ne servano Troppi Ok siamo arrivati Più o meno a mezzo stack Quindi direi di metterli Qui dentro Per fargli vedere La stack Poi se adesso Attiviamo l'incantesimo Oh yes Siamo in spectator mod Bellissimo E quello era Uno delle cose Che stavo cercando Ma Tony è consumato Pochissimo Perché avevo provato A completare Quel gioco strano Però a quanto pare Bisogna prima trovarlo Ok quindi è qui sotto Eccolo qua Quindi una volta Rutta l'entrata Possiamo Entrare dentro E attivare il gioco Immagino E adesso È di nuovo Prato fiorito Ok Sbagliato La struttura ci ha dato La reward E Ma questa è contata No Questo spell è strautile Ti consente al prossimo Di individuare i draghi Di livello 5 16 Io li sto farmando Però Cioè Molto buoni Ok allora Ne ho trovato un altro E vediamo Questo game of light Oh Ce l'ha completata Perché Non ho neanche Com Ah ok È un tipo diverso Di gioco Beh non Non ci interessa Neanche completarlo Perché le ricompense Sono davvero Cioè Non ci servono A nulla Però abbiamo Completato La quest Finalmente Quindi ho spostato Un paio di cosette In questa caverna Vicino alla mucca Come per esempio L'obduzione di energia E di gp E ho preparato La nuova casa Perché dato che siamo Di vampiri di livello massimo Mi sembrava strano Continuare ad abitare In questo buco Quindi ho fatto qualcosa Degno di un vampiro E cioè Un castellino Queste sono runestone Queste sono le runestone Della ruz E qui dentro Ci abbiamo tre stanze Qui ci andrà L'emme system Qui ci andranno Automatismi 1 E Automatismi 2 E questo tocca Ablaggio vario E magari anche altre cose Mi è piaciuto davvero parecchio Sia farlo Sia idearlo All'inizio era Di stone brick Poi ho pensato Che ci voleva qualcosa Di più scuro E questa è la prima cosa Che mi è venuta in mente Mentre per Iwool Il dragobon È davvero bellissimo Mi fa sembrare Che sia il tutto Un po' Scheletrico E vecchio La cosa brutta Di questi tetti È che Questi roof tile Dell'architecture craft Non vengono copiati Dal copy paste gadget Così come per esempio Queste stairs E praticamente Tutti gli item Dell'architecture craft Ho dovuto piazzarli A mano Uno a uno Senza poterli copiare Il che ha prolungato Di parecchio Però mi piaceva così E quindi Eccolo qua Questo episodio È durato tantissimo E ci vediamo E ci vediamo Al prossimo